Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi lunedì 22 gennaio. Come sempre lunedì ci permette di fare un lavoro un po' più semplice perché nei giornali alcuni non ci sono, gli altri hanno poca roba. Allora che cosa è successo oggi sui giornali? Beh, direi che forse la notizia del giorno è il congresso straordinario fatto dai socialisti tedeschi, guidati da quel piccolo uomo inteso non come dimensione fisica ma come sua capacità politica che è il leader dei socialdemocratici Schulz, molto bella la sua inveterata in Parlamento, la potete trovare su internet contro Berlusconi, no forse era contro la Lega di Bossi, era contro la Lega di Bossi, ce l'aveva con la Lega di Bossi ed era proprio il tedesco che attacca l'Italia, tutti all'epoca godemmo, non io sicuramente perché il tedesco sì che raccontava come dovevano fare i populisti a non comportarsi. Adesso lo vediamo all'opera, l'Europarlamento si è presentato al Partito Socialdemocratico tedesco e doveva fare faville, era arrivato ai minimi storici, ebbene Schulz l'ha portato ancora sotto ai minimi storici perché ha avuto il risultato peggiore della sua storia al Partito Socialdemocratico tedesco grazie a Schulz che in Italia veniva considerato un mito perché attaccava Bossi e in Germania viene considerato quello che è un nulla. Ma il nulla è ancora poco rispetto a quello che fece dopo il 24 settembre, nonostante il partito della cancelliera Merkel abbia perso 8 punti percentuali, quindi abbia fatto un pessimo risultato e non potesse governare da sola, e nonostante il Partito Socialdemocratico fosse ai minimi storici grazie a Schulz, Schulz in tutta la campagna elettorale ha detto non faremo mai la grossa coalizione, perché erano 12 anni che sostanzialmente c'era la Merkel che con i voti dei socialdemocratici comandava. Bene, ovviamente quello che ha detto in campagna elettorale vale zero, quindi quando pensate, non so, a un certo modo di fare della politica italiana, alle giravolte della politica italiana, sapete cosa c'è? Che noi abbiamo una lingua più dolce, loro sono la di... Vedete quello che dice il Parlamento, mista Bossi, no? Irrigidità del tedesco! Poi sono dei qua qua ra qua, e questa parola non se l'ha inventata un tedesco, non se l'ha inventata Schiller, non se l'ha inventata Goethe, se l'ha inventata un grandissimo italiano, sciascia, no? Qua qua ra qua, questo è quel qua qua ra qua di Schulz che col ditino puntato spiegava come l'Italia non funzionava, e poi che cosa fa? Dopo che perde le elezioni, porta il Partito Socialdemocratico ai minimi storici, dopo che promette che non si farà mai la grosse coalizione, fa un dice, un congresso straordinario, per che cosa? Per fare la grossa coalizione con la Merkel, vabbè, è una roba veramente... E oggi i giornali italiani non contenti e non ricordandosi come venivamo trattati dai tedeschi, cosa dicono? Dicono la serietà del Partito Socialdemocratico tedesco, che non vuole buttare le ortiche questa legislatura, che non è mai nata, dal 24 settembre ad oggi, mi sembra normale che sono tre mesi che in Germania non c'è un governo, non c'è, non esiste, e non è detto che ci sia, perché gli elettori del Partito Socialdemocratico adesso dovranno votare individualmente, almeno così c'è scritto oggi su tutti i giornali, per approvare quello che ha approvato ieri il congresso, che peraltro ha approvato la grossa coalizione al 56%, quindi con una maggioranza risicata. Qua qua ra qua, come ha detto Simone, grandissimo, qua qua ra qua capò, qua qua ra qua capò, questo si può definire quel... Perché la cosa che mi dà... Perché ce l'ho tanto con Schulz? Perché quando un politico straniero, come fece Sarkozy, come fa Schulz, come ha fatto Moscovici nei confronti del Movimento 5 Stelle, spiega a noi come ci dobbiamo comportare, e loro in casa sono politici come tutti mondo e paese in questo, quando ci fanno le lezioni a noi, beh, io penserei a un orgoglio, diciamo, italiano, nel dire sapete che c'è di nuovo il Movimento 5 Stelle, la Lega di Bossi, Berlusconi, il PD, ci pensiamo noi ad attaccarlo, ad amarlo o non amarlo, non il signor Moscovici che si permette di dire se dovesse vincere il Movimento 5 Stelle succederebbe un casino, no, si chiama democrazia, caro Moscovici, a me piace o non piace il Movimento 5 Stelle, conta poco il voto degli italiani, chiaro? Bene. Andiamo avanti dopo questa ridicola farsa, perché poi i giornali anglosassi dicono sempre la parola farsa, la utilizzano per la politica italiana, io la utilizzerei una volta, cari amici del Financial Times, facciamo questo titolo, la farsa tedesca, come la possiamo definire questa? Perché i tedeschi vengono ricordati soltanto per una cosa che non è una farsa, cioè il nazismo, io invece questo lo vorrei ricordare per una cosa che ha dell'italianità, che ha il suo DNA secondo la stampa internazionale, quindi è esattamente il contrario della serietà, è il prendersi sul serio, non c'è un termine, nel farseggiare. L'unico pezzo forse interessante oggi sulla vicenda è quello di Gervasoni, su Messaggero, che ci fa capire come questo modo di comportarsi della politica europea farà sì che Macron, che peraltro ieri questo matto di Schulz, matto di Schulz ha detto appena di ricevuto la telefonata di Macron, dando il senso di come oggi il vincitore morale dell'Europa e che potrà insinuarsi in questo cuneo di debolezza della Merkel sarà proprio il presidente Macron, ben per i francesi ovviamente che di queste cose ne approfittano da per loro, nel senso che facendo i loro interessi nazionali, come dovremmo farlo anche noi. Stupenda oggi l'intervista di Antonio Martino sulla flat tax sul Libero e molto avanti non mi sembra neanche sia richiamata in prima pagina, però va la pena di leggerlo, intanto perché vi spiega per quale motivo la flat tax conviene, per quale motivo non è una tassa che giuevole i ricchi e che comunque non c'è nulla di male nel generale le persone che producono più ricchezza perché quelle hanno meriti e che comunque la spandono la ricchezza, ma non parla di questo Martino, Martino parla della flat tax e della sua bontà per l'economia, ma non solo quello di Berlusconi, io trovo straordinario il fatto che Martino, più che definirlo bugiardo, come qualcuno lo definisce, ma lo stesso intervistatore lo incazza, dice beh ma l'avete detto già nel 94 che la facevate la flat tax e dicevete dite questo e dite questo e dite quest'altro, beh Martino dice no, Berlusconi sapete che cos'è? È fantasioso, io la trovo fantastica la definizione che un vecchio signore siciliano dà del suo leader politico che si chiama appunto Silvio Berlusconi, fantasioso, io l'ho trovata fantastica, non si possono definire tali i due pezzi oggi di prima pagina del Corriere della Sera che sono una rottura di scatole che la metà basta! Il pezzo di Davenia, che è un grande scrittore, a me piace ed è un grandissimo affabolatore, un maestro del liceo San Carlo di Milano, grande stima per lui, però oggi la sua rubrica e la sua pagina intera sul rifarsi il letto dei bambini a casa è una noia per la quale la corazzata Potogonkin è un paragone assimilabile. No, forse no, non è un paragone assimilabile, forse è Paolo Mieli che ci spiega in altre 250 pagine che cosa avverrà dopo le elezioni, poi quando avverranno le elezioni ci spiegherà che cosa è avvenuto dopo le elezioni o prima delle elezioni e per quale motivo sono avvenute queste cose. Insomma, ci spiega sempre le cose che non sono spiegabili. Comunque sia, potete evitare tranquillamente tutte e due. L'ultima questione riguarda il Movimento 5 Stelle, ha presentato il programma, molte delle cose le sappiamo, alcune molto, secondo me, ridicole, per esempio sulle questioni ambientali loro sono fissati, non c'è più il no infrastrutture di un tempo, forse si stanno moderando anche su questo, sull'euro, ma la cosa che più mi diverte del programma del Movimento 5 Stelle che è presente, di cui discuteremo ovviamente nei prossimi giorni, il reddito di cittadinanza, la riduzione dell'ira per le piccole imprese, quindi qualche promessina la fanno anche loro, è l'atteggiamento del governo nei confronti del Movimento 5 Stelle, perché Gentiloni che cosa dice? Non avranno i numeri. Allora, dico io, e qui dobbiamo metterci d'accordo, Presidente Gentiloni, lei ha fatto una legge elettorale e ha chiesto la fiducia posta da Grasso e dalla Boldrini, che oggi si candidano con la sinistra perché non accettano il vostro partito, beh, Gentiloni, avete messo una legge elettorale che è fatta apposta perché il primo partito non possa mai comandare, voglio dire, è grazie al cavolo, e cioè, quando quello, è come il bambino che porta via il pallone dalla partita di calcio, tutti gli altri stanno lì a non giocare, e quel bambino dice, e mi dì che non riesci a giocare a pallone, è chiaro che non possono giocare a pallone, gli hai portato via il pallone tu? Eh, Gentiloni, ha fatto una legge per cui nessuno vince e oggi dice, non avranno i numeri, invece i numeri, purtroppo, per chi non ama il Movimento 5 Stelle, ce li avranno perché saranno il primo partito in Italia, secondo i sondaggi, avranno il 28-29%, Forza Italia, benché vada, avrà il 18-19% e il partito di Gentiloni, il PD, si aggira tra i 23-25%, ovviamente in questi 40 giorni tutto potrà cambiare, ma se anche dovesse cambiare il PD col 28%, quindi se il PD dovesse ribaltare la situazione, arrivare al primo partito italiano, anche il PD di Gentiloni non avrebbe i numeri, come si fa a fare una dichiarazione così, come possiamo dire, ipocrita sul Movimento 5 Stelle? Io non lo so davvero. Detto questo, che altro c'è oggi? Vi ho detto, ma il lunedì guardate, c'è pochissimo, leggetevi Martino e andate belli sereni per tutta questa giornata come mi sono messo sereno anch'io. Stasera ci vediamo, ma tra l'altro Martino su Gentiloni ne parla bene, dice che è stato un buon ministro degli esteri e che non gli dispiace, così come padrono. Un Martino oggi non fantasioso, di buon umore. Io rimango di buon umore fino a questa sera alle 19. Alle 19 questa sera ci avremo ospite Di Maio nella Radio 105 Matrix, quindi assolutamente collegate a Radio 105, le interviste politiche di questa stagione le conoscete e condividete questa pagina. Oggi non mi sono messo all'ingiù, volete che mi metta all'ingiù anche per concludere questa cosa? Sì, mi metto all'ingiù, vediamo se mi posso metterla all'ingiù. Funziona? Oggi non va all'ingiù, oggi non ci va all'ingiù. E se non condividete mi rivedrete sempre dal lato sbagliato. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!